Benvenuti a Storie Famose. Oggi racconteremo la storia di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, George Michael. Dal suo successo negli anni Ottanta come parte del duo AM, George Michael ha conquistato il mondo con la sua voce potente e il suo talento come compositore. È diventato un'icona della musica pop, vendendo oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo e vincendo numerosi premi. Ma la vita personale di George Michael è stata segnata da sfide e controversie, tra cui la sua lotta contro l'omofobia, le sue relazioni tumultuose e la tragedia della sua prematura scomparsa. In questo video esploreremo gli alti e bassi della vita di George Michael, rivelando i segreti dietro la sua musica, le sue relazioni e le sue lotte personali. Quindi, se sei un fan di George Michael o semplicemente ami conoscere meglio le personalità famose, iscriviti al nostro canale, lascia il tuo like e commenta le tue impressioni su questa incredibile storia. George Michael è stato un cantante, compositore e produttore musicale britannico nato il 25 giugno 1963 a East Finchley, Londra, e scomparso il 25 dicembre 2016. All'età di 53 anni, a Goring on Thames, Oxfordshire. Michael ha iniziato la sua carriera musicale come membro del duo Pop Wham. Insieme ad Andrew Ridgley. Il duo ha pubblicato il suo primo singolo, Wham Rap. Enjoy What You Do, nel 1982, che ha raggiunto l'ottava posizione nelle classifiche britanniche. Il successo di Wham è continuato con successi come Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, e Last Christmas, diventando una delle band più popolari degli anni Ottanta. Nel 1987, Michael ha pubblicato il suo primo album da solista, Fate, che è diventato un successo internazionale, raggiungendo la vetta delle classifiche in vari paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito. L'album ha venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo e ha generato diversi successi, come Fate, Father Figure, One More TRY e Monkey. Nel corso della sua carriera, Michael ha continuato a pubblicare album acclamati dalla critica e di successo commerciale, tra cui Listen Without Pregiudice Vol 1, 1990, Older, 1996, e Patience, 2004. Oltre al suo lavoro da solista, ha anche collaborato con altri artisti, come Elton John, Queen e Mary J. Bleach. Tuttavia, la vita personale di Michael è stata spesso tumultuosa e controversa. È stato arrestato più volte per reati legati a droghe e alcol e ha affrontato critiche da parte dei media e del pubblico per la sua sessualità e il suo comportamento. Nel 1998, fu arrestato in un bagno pubblico a Beverly Hills, California, il che portò a uno scandalo sui media. Oltre alla sua carriera musicale, George Michael era anche conosciuto per il suo attivismo sociale e filantropico. Ha sostenuto varie cause, tra cui la lotta contro l'AIDS, la lotta per i diritti LGBT e la carità in generale. Ha partecipato a eventi benefici, ha donato denaro a istituzioni di beneficenza e ha persino fondato la sua organizzazione non-profit, chiamata The George Michael Foundation. Nel 1991, Michael collaborò con Elton John in una cover di Don't let the sun go down on me, che raccolse fondi per la beneficenza e divenne un grande successo. Era anche un forte sostenitore della lotta contro l'AIDS, tenendo una serie di concerti benefici in tutto il mondo e contribuendo con i profitti a istituzioni di beneficenza. Oltre alla sua carriera musicale e all'attivismo sociale, George Michael si distinse anche come artista innovativo e creativo. Ha incorporato elementi di jazz, soul, funk e musica elettronica nella sua musica, diventando uno dei primi artisti pop a utilizzare campionatori e sintetizzatori nelle sue registrazioni. George Michael ha avuto una notevole carriera, vendendo oltre 115 milioni di dischi in tutto il mondo e vincendo numerosi premi, tra cui tre Brit Awards, quattro MTV Video Music Awards, quattro Ivor Novello Awards e due Grammy Awards. Il suo lascito musicale continua a ispirare e influenzare artisti contemporanei in tutto il mondo, e la sua musica continua a riflettere il talento e la creatività di uno dei più grandi artisti del ventesimo secolo. George Michael ha avuto una vita personale piuttosto turbolenta, con relazioni controverse e note. Era ampiamente conosciuto per la sua omosessualità, ma ha mantenuto la sua sessualità privata per molti anni prima di finalmente rivelarsi pubblicamente nel 1998, dopo l'incidente a Beverly Hills. Tra le sue relazioni più note, c'è il manager Kenny Goss, con cui ha avuto una relazione per oltre un decennio, e il parrucchiere Fadi Fawaz, che era il suo partner al momento della sua morte nel 2016. Inoltre, Michael ha avuto relazioni con altri uomini e donne nel corso della sua vita, e ha persino sposato la modella e attrice americana Brooke Shields nel 1992. Tuttavia, le sue relazioni sono spesso state segnate da controversie e scandali nei media, e la sua vita personale è diventata un argomento pubblico. Ha affrontato critiche e giudizi per la sua sessualità e il suo comportamento, ma ha anche ricevuto sostegno da molti fan e sostenitori dei diritti LGBT. Nonostante alti e bassi nella sua vita personale, George Michael ha sempre mantenuto il suo focus sulla sua musica e sui suoi sforzi di beneficenza. La sua musica e la sua influenza culturale continuano ad essere ricordate e apprezzate da molti ancora oggi. George Michael ha avuto una vita personale piuttosto turbolenta, con relazioni controverse e notorie. È stato ampiamente conosciuto per la sua omosessualità, ma ha mantenuto la sua sessualità privata per molti anni prima di finalmente uscire allo scoperto pubblicamente nel 1998, dopo l'incidente a Beverly Hills. Ha affrontato discriminazioni lungo tutta la sua vita, principalmente per essere apertamente gay in un'epoca in cui l'omofobia era molto presente nella società e nell'industria musicale. Ha parlato pubblicamente delle difficoltà incontrate nel tentare di affermarsi come artista, tra cui il rifiuto di alcune case discografiche di lavorare con lui a causa della sua sessualità. Nel 1998, Michael è stato arrestato in un bagno pubblico a Beverly Hills, in California, per condotta indecente dopo essere stato sorpreso da un poliziotto in trappola. Si è dichiarato colpevole e multato, ma l'incidente è stato ampiamente pubblicizzato dai media e ha causato controversie. Molti hanno visto questo come un esempio di discriminazione contro la comunità LGBT, e Michael è diventato un attivo sostenitore della lotta contro l'omofobia. Nella sua musica e nella sua vita personale, George Michael ha anche parlato apertamente di questioni legate alla discriminazione razziale e sociale. Ha abbracciato la sua eredità greco-cipriota ed è diventato un attivo sostenitore della comunità nera. Nel 1991, ha registrato la canzone «Freedom», 90, che ha incluso un iconico video con le supermodelle Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington e Cindy Crawford, diventato un simbolo della diversità e dell'inclusione nell'industria della moda. George Michael ha continuato a utilizzare la sua piattaforma per difendere l'uguaglianza e la giustizia sociale, e il suo lascito continua ad ispirare e influenzare coloro che lottano contro la discriminazione e l'oppressione. George Michael è deceduto il 25 dicembre 2016. All'età di 53 anni, nella sua casa a Goring-on-Tames, nel Regno Unito. La causa ufficiale della morte è stata una insufficienza cardiaca, ma è stato anche rivelato che soffriva di una malattia epatica grassa non alcolica e problemi respiratori. La sua morte è stata una grande perdita per l'industria musicale e i suoi fan in tutto il mondo. Numerose omaggi gli sono stati tributati, tra cui con certi benefici, tributi ai premi e azioni di beneficenza a suo nome. Dopo la sua morte, vari artisti e personalità pubbliche hanno espresso la loro tristezza e omaggiato George Michael per la sua musica e i suoi contributi alla cultura pop. Il suo lascito vive ancora e la sua musica continua ad essere apprezzata da molti, influenzando una nuova generazione di artisti e fan. E così concludiamo un'altra storia incredibile qui su Storie Famose. Speriamo che tu abbia apprezzato conoscere di più sulla vita di George Michael, uno dei più grandi iconi della musica pop di tutti i tempi. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato sulle prossime storie di personalità famose che ti ispireranno e sorprenderanno. Metti mi piace, condividi con i tuoi amici e commenta quale storia vorresti vedere nel prossimo video. Alla prossima, e continuo a seguire Storie Famose per scoprire di più sulle star che hanno segnato la storia della cultura pop.